secondo video prima la partenza o la ragazzi per mi sono dimenticato che c'è anche a champions cui faccio le previsioni queste invece è la previsione delle partite che si devono giocare appena postato quello del campionato che era andata abbastanza bene però appunto per resta avere continuità sia nell'uno che dall'altra parte ci deve essere il video anche della delle previsioni delle partite che si giocheranno in queste praticamente due giornate perché giovedì invece giocherà la conference league e la europa league si ritorna ancora al vecchio stampo poi non so ci sono delle altre settimane in cui distribuiranno nelle tre giornate vedremo comunque appunto dicevo uno dieci due due dieci tutti si giocano tutte tra oggi e domani prime partite alle 18 45 2 a 2 per metto salisburg brest due squadre che mi sembra una vinto l'altra andiamo a vedere vedere no per queste sì comunque salisburg brest ha vinto e salisburgo mi sembra che aveva perso tre tre a zero con lo sparta prava quindi salisburgo brest mi metto da un 2 a 2 anche perché salisburgo gioca in casa stocca da sparta praga vendiamo veloci perché sono tante non vorrei neanche fare un video troppo troppo lungo stoccare a parte guarda secondo me lo soccarda fra una gran partita è forte a praga non ho fiducia non le avevo data anche nella precedente quindi 4 a 1 arsenal pari saint germain 3 a 2 partita molto combattuta perché sono due squadre che che giocano però la punta la squadra inglese che comunque sta facendo bene anche in premier league e vi hanno giocato anche noi bayern l'everkusen 3 a 1 secco per il bayern l'everkusen che so che il milan sta facendo va a dire qualcosa adesso però vedo che sono giocate dei singoli anche l'ultima partita quindi giocava la vita in dieci minuti quindi vediamo auguro al mina di fare una buona partita però bayern l'everkusen è una squadra tosta altra squadra tedesca borussia dorm un celtic ci interessa particolarmente per vedere il setting ma borussia dorm si porterà a casa non facilmente però il 2 a 1 barcellona young boys 4 a 0 secco barcellona che continua adesso bisogna creare l'ultima però la pareggiata comunque non l'ha vinta quella dico nella liga è però barcellona che ha macinato delle partite importanti in questo ultimo periodo e penso che lo young boys sia decisamente la sua portata interest e la rossa 4 a 1 anche questo sembra una partita abbastanza senso unico psv sporting lisbona 1 a 1 psv che non ha fatto vedere grandi cose con la juve ma vediamo appunto gioca in casa e cercate portarsi a casa meno almeno un punticino sicuramente vorrà vincere ma lo sport in lisbona e gran squadra slovan brattislava magia ser city anche qua non penso che sia una partita a senso unico anche se si gioca brattislava cioè in slovacchia giusto chat al donnes atalanta che dice interessa particolarmente era prima le prime due partite del mercoledì la riusciamo a spuntare ma non tanto facilmente quindi 2 a 1 per l'atalanta dobbiamo portarci a casa i tre punti per appunto come dice gasperini adesso vediamo si farà la conferenza stampa oggi queste partite sono da vincere se vogliamo qualificarci bene nel per i sedicesimi ottavi non penso per l'atalanta sarebbe una cosa talmente bella bella ma decisamente abbiamo poche un percentuale abbiamo poche possibilità tolta l'atalanta girona fei e nord che giocano nello stesso nostro orario 2 a 0 per il girona un girona che non mi sembra che non abbia vinda mi ha perso sì l'altra volta comunque appunto ha bisogno di punti gioca con il feinerd credo che sia abbastanza la partita che possa vincere aston villa bayern monaco in questo caso mentre arsena pari san giovane ha volato 3 a 2 per l'arsena qua l'aston villa viene sconfitto da un bayern monaco che deve fare secondo me una tra le otto ovviamente lo sapete bene che quali sono le otto squadre almeno a meno cinque che sicuramente si qualificheranno e quindi queste partite penso che aston villa deve debba vincere magari non un 4 a 2 comunque io ho dato questo risultato dinamo zagabria monaco dinamo smaga monaco 0 a 3 quindi il monaco che vince col barcellona e e poi si porta a casa un'altra vittoria quindi prisa prima in classifica insieme insieme a altri stile rock la mia classifica sia di seriale se non ho avuto tempo però sistemeremo anche quella liverpool bologna 3 a 0 credo che per il bologna bologna di adesso non ci sia molto molto spazio quindi poi magari farà una buona partita però il liverpool non penso dopo aver perso con l'atalanta penso che si ricordi appunto che non che non è facile comunque giocare con le squadre italiane il real madrid vincere al madrid ma non facilmente nonostante che lì non sia squadra eccessiva però penso gioca anche in casa metterà un po bastoni tra le ruote l'ipsi a juventus vince l'ipsi a 2 a 1 per questa juve come detto nel precedente video non mi convince moltissimo prenderà questi due gol boh perché sarebbero i primi gol che prende giusto quindi vediamo se questo lipsia riesce a togliere questa questo zero dalla juventus poi rimane comunque lo zero in campionato che vedremo quando però quando qualcuno ci sarà che riuscirà a segnare stum grazie però non mi piace davanti non mi piace moltissimo con me nel suo se l'unico che se la cava ma il resto sono grandi giocatori ma potrebbero decisamente fare di più su un grazie club rouge 0 2 su un club che penso che sia la squadra cucinetto ce l'abbiamo anche noi per fortuna però bisognava sempre giocarle tutte quindi anche al club bush che comunque ha perso col dormut ma 3 a 0 ma che quando non è ha giocato molto bene fino al settantatre esimo quando quando ha iniziato a prendere gol quindi quasi tutta la partita quindi squadra abbastanza ostica da gioco questo turnale che non ce l'abbiamo né non ce l'abbiamo noi benfica atletico madrid invece qua benfica che gioca in casa e benfica che è una buona squadra e quindi penso che pareggio sia buono ecco fatto anche il video è giusto che poi quando farò appunto il video successivo di dei risultati veri abbiamo poi il riscontro che appunto delle previsioni che delle partite anche di champions la sua champion campionato non riesco a fare tutto quindi seguo le due competizioni in cui c'è la nostra grandissima dea bene un saluto ci prepariamo questa giornata lavorativa e poi partenza come ho detto per guesser king che per vedere charter dones atalanta dallo stadio dello schalke 04 ciao a tutti e buona giornata